Bentornati nel mio salotto. Stasera voglio parlare di un argomento che solitamente spacca sempre in due l'opinione, ma voglio farlo senza nessun tipo di presunzione e soprattutto senza sostituirmi a nessuno specialista. E non voglio fare nemmeno terrorismo psicologico che oggi va tanto di moda e fa tanto figo. Ma visto che l'argomento di cui voglio parlare è qualcosa che tocca a me e tutti quanti nel profondo quotidianamente, voglio provare ad affrontarlo nel modo più oggettivo possibile. E voglio iniziare chiedendo a qualcuno di particolare esattamente di cosa si tratta. Alexa, cosa sono i Big Data? Secondo il sito Wikipedia, in statistica e informatica, la locuzione inglese Big Data indica genericamente una raccolta di dati informativi così estesa in termini di volume, velocità e varietà da richiedere tecnologie e metodi analitici specifici per l'estrazione di valore o conoscenze. Il motivo per cui voglio parlare dei Big Data è perché già a maggio del 2017 l'Economist aveva pubblicato la sua rivista dicendo che la risorsa più preziosa oggi non è più il petrolio, ma sono i dati. Chi detiene infatti la vera ricchezza non soltanto alla capacità di acquisire e di conservare questi dati, ma anche alla capacità di dare un valore a questi dati, tramutandoli cioè in informazioni che poi servono concretamente. Quindi proviamo a capire esattamente cosa sono i Big Data, partendo però da una certezza, e cioè che oggi l'economia contemporanea si fonda proprio sui dati. E non è un caso che i 5 gruppi imprenditoriali più grandi del mondo per capitalizzazione vengono chiamati Big Tech e sono Google, Amazon, Apple, Microsoft e Facebook. Mentre fino a non più di dieci anni fa in queste cinque posizioni c'era sempre almeno una compagnia petrolifera, oggi invece non è più così. E questo proprio per la continua e crescente mole di dati che inseriamo e immettiamo nell'infosfera quotidianamente. Fonte d'uomo, ogni giorno carichiamo 2.500 miliardi di dati nel web e questo è un dato che continua a crescere, così come aveva già previsto nel 2010 Jonathan Efrat, che è il Product Manager di Google, mica uno qualunque. Tutta questa mole di dati viene generata dai nostri click sugli annunci, dalle nostre ricerche sul web, dai like sui social, dalle nostre transazioni, dalle nostre condivisioni, dai contenuti in streaming e anche da molto altro senza che lo sappiamo. E la riprova è proprio che Google due giorni fa mi ha mandato una mail complimentandosi con me perché in questo 2020 ho visitato 314 città, 1415 luoghi e percorso 56.000 km, cioè praticamente quasi una volta e mezzo il giro del mondo e questo senza che io ne sapessi consapevolmente nulla. E questa mole immensa di dati che produciamo ogni giorno in realtà fa emergere una certezza e cioè che la vera ricchezza non è soltanto nel saper ricercare oppure conservare questi dati, ma saper dare a questi dati anche un valore e quindi dargli un senso. Lo conoscete tutti quanti il mi piace su Facebook, il tanto desiderato like quando pubblichiamo qualcosa? Ecco, il suo inventore Justin Rosenstein ha detto che lo aveva inventato il like solo per diffondere positività tra le persone e non avrebbe invece mai immaginato che sarebbe diventato una moneta di scambio per calcolare il reale valore delle persone. Ma quindi perché vi sto dicendo tutto questo? Perché voglio capire esattamente a cosa servono i big data e perché sono tanto importanti e proviamo a capirlo subito dopo la sigla, quindi non ve ne andate perché insieme scopriamo qualcosa di curioso. In italiano i big data si chiamano megadati. Esistono già da moltissimo tempo, ma hanno avuto un effettivo slancio soltanto nei primi anni del 2000, quando l'analista di mercato Doug Laney li ha definiti come delle risorse informative a elevato volume, velocità e varietà che richiedono delle forme di elaborazione eccezionali e questo per potenziare la comprensione, per la presa di decisione e per l'automazione dei processi. Quindi in realtà ha sviluppato il concetto dei big data in 3V, che sono proprio il volume, la velocità e la varietà, a cui poi se ne sono aggiunte negli anni altre due, che sono riferite alla variabilità proprio perché i dati sono imprevedibili e alla loro veridicità. Ma per dirla ancora in un modo più semplice, i big data sono delle informazioni che vengono tradotte poi dai matematici e dagli informatici in un linguaggio che è comprensibile alle macchine, attraverso degli algoritmi che servono per fare qualcosa. Presuppongono cioè delle nuove capacità di collegare tra di loro le informazioni, suggerendo dei pattern e dei modelli di interpretazioni che prima erano assolutamente inimmaginabili. E quindi a che servono i big data? I big data servono in tantissimi campi e sono utili, sono utili e come? Per esempio in ambito sanitario servono proprio per migliorare le diagnosi, i trattamenti, ma anche la prevenzione delle malattie. Oppure servono anche nei trasporti big data, per esempio per migliorare i percorsi, il comportamento dei conducenti, ma anche per velocizzare i servizi. Pensate proprio a Uber o a Flixibus che sono capaci attraverso i big data di far incontrare la domanda e l'offerta. Ma i big data servono anche per la guida autonoma di cui ho già parlato in un mio video che vi lascio sotto in descrizione insieme alle fonti e che è possibile proprio attraverso l'analisi in tempo reale di tutti quanti i dati che riescono ad acquisire e elaborare i computer di bordo del veicolo in tempo reale. Quindi per esempio la mappa in 3D del percorso piuttosto che i dati meteo o i dati del traffico e tutto quello che può avvenire e che non era previsto, come tranquillamente un cane che non attraversa sulle strisce pedonali. E sono utili ovviamente anche in ambito energetico i big data, perché per esempio sono in grado di calibrare perfettamente l'andamento tra la domanda e la disponibilità della materia prima. E questo serve anche per contrastare gli sprechi, per esempio energetici, economici ma anche ambientali nell'estrazione del petrolio e del gas naturale. E servono ovviamente anche nel settore bancario i big data, perché sono capaci per esempio di ricalcolare i rischi di portafoglio in pochissimi minuti, oppure anche di rilevare un comportamento fraudolento. Ovviamente sono utili anche in ambito finanziario, perché sono capaci proprio di sviluppare delle analisi di mercato e delle tendenze commerciali. E in questo modo riescono anche a offrire degli incentivi personalizzati alle persone in base alle loro abitudini di consumo e alle loro capacità di reddito. Per non parlare poi della grande distribuzione, dove i big data servono per generare dei coupon per i clienti in base a quelli che sono i loro effettivi bisogni. Oppure le telecamere all'interno dei negozi, che servono sì per controllare in tempo reale i vari guasti e magari prevenirli, ma possono essere utilizzati anche per controllare e misurare la loro permanenza media all'interno del punto vendita. E controllare anche quali sono i prodotti che vengono visionati di più rispetto a quelli che vengono visionati di meno. Per non parlare poi dell'utilizzo dei big data in quello che viene chiamato internet delle cose, come la domotica, piuttosto che gli elettrodomestici intelligenti e tutti quanti quegli apparati che sono costantemente collegati ad internet, come Alexa e Google Home. In questo caso i big data servono proprio per misurare le nostre abitudini e costruire il profilo dei nostri bisogni e servono anche per far dialogare tra di loro gli elettrodomestici, per cercare di portare al minimo lo spreco di energia. E' come dimenticarci delle telecomunicazioni, dove noi continuiamo ogni minuto a pubblicare 4 milioni di post su Facebook e 40 milioni di messaggi Whatsapp, perché tanto a noi non costano nulla. E poi ancora non dobbiamo dimenticarci assolutamente della sfera pubblica, dove per esempio i big data servono anche per il dispiegamento mirato delle forze di polizia, ma anche per lo studio delle associazioni tra la qualità dell'aria e la salute. E poi nell'ambito che c'è più familiare, c'è quello del marketing, i big data servono proprio per costruire dei metodi di raccomandazione, come quelli utilizzati da Amazon e Netflix, per fare delle proposte di acquisto mirate a ogni cliente che è diverso rispetto ad altri milioni di clienti. E tutti questi esempi in realtà li ho citati solo ed esclusivamente per capire che i big data toccano la nostra vita, continuano a lavorare anche se noi lo sappiamo e senza che noi ce ne accorgiamo. E tutti i dati raccolti provengono poi proprio dalla nostra navigazione, dai nostri acquisti, dalle nostre ricerche e tutti i risultati che vengono elaborati servono alle società, ai grandi colossi del commercio elettronico e non, per suggerire i prodotti più adatti a ciascuno, i prodotti che possono servire oppure che possono stimolare la curiosità delle persone, per generare il bisogno di un acquisto, un bisogno che può essere momentaneo o permanente oppure per un semplice impulso. Pensate che appartengono alla famiglia dei big data anche quegli algoritmi che sono capaci di predire se è una consumatrice donna e incinta e lo fanno soltanto attraverso l'analisi dello storico dei suoi consumi e delle sue ricerche e una volta individuato il suo stato sono capaci anche di proporgli delle offerte ad hoc, dei coupon specifici per la sua condizione. E sono stati proprio sempre i big data che mi hanno fatto compagnia in questo 2020 quando hanno continuato a bombardarmi giorno dopo giorno di pubblicità di casa in affitto a Salerno prima e durante il mio trasferimento di lavoro. E sono per esempio sempre i big data che vengono utilizzati anche dalle società che emettono carte di credito per individuare anche delle associazioni inusuali nel calcolo di rischio di finanziamento di un soggetto. Per esempio è stato provato che gli individui che comprano i feltrini per i mobili sono quelli maggiormente più affidabili perché sono più inclini a rientrare dai loro debiti nei tempi previsti. E quindi adesso per evitare di dilungarmi ancora altrimenti veramente il video non finirebbe più. Tutti quanti questi esempi pratici alcuni dei quali sono assolutamente validissimi hanno però in comune quattro elementi fondamentali. Il primo è la raccolta dei dati rilevati dai comportamenti di utenti e di imprese. Il secondo è il trattamento di questi dati da parte di determinati algoritmi. Il terzo invece è l'elaborazione da parte proprio degli algoritmi di alcuni modelli che vengono chiamati predittivi. E infine il quarto elemento è l'estrazione da questi dati di un valore economico. E questi quattro elementi sono proprio i quattro pilastri del nuovo capitalismo contemporaneo che vede emergere pochi e grandi colossi digitali che sono quelli che proprio a inizio video ho chiamato Big Tech. E questo ovviamente un pochettino preoccupa visto che sono queste poche società, questi pochi colossi che sono i dettagli, tentoni di una quantità enorme di dati e di algoritmi e di processi di innovazione che invece non sono accessibili a tutti quanti. Ne abbiamo visti i centinaia di benefici che portano i Big Data ma in assoluto portano anche un casino di problemi. E il primo fra tutti è la concorrenza a queste imprese che detengono questi dati e che gli fanno acquistare all'interno del mercato un potere che non era mai stato visto prima. Oppure un altro problema è quello della manipolazione delle informazioni che può sfociare in una vera e propria influenza sulle persone, non soltanto sui loro acquisti ma anche nella campagna elettorale. E poi può sfociare addirittura nella disinformazione. E poi per ultimo, ma sicuramente non per importanza, c'è anche il problema della inadeguatezza delle norme circa la regolamentazione di questi colossi e di questo capitalismo digitale. Per non pensare poi anche alla inadeguatezza delle norme per il trattamento dei dati personali. Ma veniamo adesso al vero nocciolo del problema, e cioè perché il capitalismo digitale si nutre di dati. Ne ho parlato già nel video precedente, dove praticamente il valore di un bene, secondo il principio della scarsità di Robert Cialdini, si calcola in base alla difficoltà di reperire un bene sul mercato. Ma nel caso dei dati però non è più così, proprio perché i dati nello specifico non perdono valore se vengono elaborati, se vengono riprodotti, trasformati e addirittura aumentano il loro valore quando vengono elaborati con altri dati di specie. Ma quindi, un dato quanto vale? Ha provato a rispondere a questa domanda del Financial Time nel 2017, lanciando una provocazione circa i dati che noi più o meno spontaneamente lasciamo nel web, soprattutto sui social network. In descrizione infatti vi lascio un giochino che è in grado di calcolare attraverso delle domande su noi stessi il valore commerciale di ogni singolo profilo. E questo calcolatore pubblicato sul sito del Financial Time può essere considerato assolutamente attendibile, proprio perché è stato provato, è stato confrontato con un altro algoritmo che invece funziona benissimo, che è quello di Facebook, che serve proprio per definire le sue campagne pubblicitarie. La media del valore economico di ognuno di noi è esattamente 70 centesimi di dollaro. Io invece valgo esattamente il doppio, perché sono single e quindi così sono potenzialmente inclino a iscrivermi a un sito di incontri, piuttosto che comprare una moto o una macchina sportiva o anche comprare un biglietto per lanciarmi dal paracadute o magari andarmene in Tibet. Ma in realtà io valgo il doppio, perché sono cardiopatico, perché sono diabetico e sono iperteso e quindi rappresento una vera e propria miniera d'oro per le case farmaceutiche e per gli specialisti. E quindi magari adesso iscrivetevi al canale, non fosse altro per la mia previsione non lunghissima di vita, oppure perché mi sono così buttato la zappa sui piedi da solo perché da domani riceverò un sacco di pubblicità di cui non ne farò nulla. Ma scherzi a parte, il Financial Time garantisce che le risposte a quel gioco pubblicato sul suo sito non verranno mai divulgate. E vediamo adesso quali sono i criteri principali sui quali si calcola il valore economico di ciascun profilo. Sicuramente il primo di questi criteri è la varietà dei dati, il secondo invece è dato al numero di azioni che hanno generato il dato e il terzo infino è l'impiego del dato, sia attuale ma anche prospettico. Ognuno di noi, come utente di internet, è stato già prefilato con nome, cognome, età, sesso, peso, altezza, stato di famiglia, origine etnica, religione, affiliazione politica, occupazione, stato reddituale, stato patrimoniale, composizione familiare. E il mercato dei dati, quindi capiamo che è fatto da due momenti fondamentali. Il primo è quello della cessione dei dati al sistema e ai broker che raccolgono i dati. E poi il secondo momento è quello della cessione di questi dati dai broker alle società che hanno invece finalità commerciali. E in questo mercato di dati noi valiamo perché a valere sono i nostri dati. E i nostri dati valgono prima di tutto perché permettono di profilare meglio la nostra domanda di prodotti e di servizi. Ma poi i nostri dati servono anche perché servono a migliorare gli algoritmi. E questo perché maggiori dati elaborano gli algoritmi, allora meglio sono capaci di prevedere i nostri bisogni sul mercato e anche le opportunità di investimento. E questo è l'esatto motivo per cui troviamo sempre più applicazioni oppure più servizi e più prodotti gratuiti. Proprio perché questo ci fornisce lo stimolo per dare spontaneamente i nostri dati. Peccato però che tutte queste app e questi servizi non siano né liberi né gratuiti. E quindi capiamo anche il motivo, il significato della profezia di Chris Anderson nel suo libro gratis, quando diceva che il futuro sarà libero ma non sarà free. E non sarà libero proprio perché per accedere a tutti quanti questi prodotti, queste app e questi servizi gratuiti, noi possiamo accederci soltanto attraverso un account verificato, quindi non in anonimato. Dobbiamo fornire nome, cognome, età, sesso e qualche altra domanda insignificante. E poi dobbiamo fornire una mail o il numero di telefono proprio per verificare la nostra identità. E infine se proprio vogliamo fare i pignoli, tutti questi servizi che loro chiamano gratuiti, in realtà noi li paghiamo e li paghiamo con la nostra attenzione. Dai, siamo arrivati anche alla fine di questo video, so che è stato lungo e so che è stato difficile, ma vi assicuro che è stato difficile anche per me mantenere la lucidità e provare a essere molto obiettivo senza lasciarmi condizionare da quelli che sono i miei giudizi personali. Però permettetemi una considerazione che poi in realtà è una paura. I big data ci stanno appiattendo, ci hanno tolto il grigio, ci hanno tolto il bello del dibattito, il bello del contrario. Perché soltanto ascoltando la musica che non mi piaceva che io sono riuscito a scegliere il mio gruppo preferito. Ed è stato soltanto leggendo libri brutti che io sono riuscito a scegliere il mio autore preferito. Ed è stato soltanto facendo una miriade di minchiate che ogni tanto sono stato capace di fare la cosa giusta o di prendere la strada giusta. Ecco, il like for like, il follow for follow, non serve per farci diventare migliori. Quello serve per altro, serve per cucirci addosso qualcosa che ci sta già bene. E il mondo lì fuori però non è tutto quello che ci fanno vedere i big data. Il mondo lì fuori è un altro. Quello che ci stanno facendo vedere adesso è soltanto quello che ci rende comodi. Ma in realtà nella vita si cresce, si impara e ci si migliora soltanto stando scomodi. Quindi senza rinnegare tutto quello che di buono c'è nei big data. Perché non proviamo un po' a confonderli? Ogni tanto diciamo di no. Per esempio condividete questo video, ma anche no. Ciao!